ciao a tutti ragazzi d'alessia alessia napoletana mantone a tutti ragazzi benvenuti in questo mio nuovo video in questo mio nuovo video volevo parlare che è ufficiale frank liberi è un nuovo giocatore della fiorentina super colpaccio da parte della fiorentina che ha preso il mostruoso giocatore frank liberi un giocatore che nonostante abbia 36 anni è ancora molto forte e può ancora fare 12 anni due anni 12 anni buono buoni ad alti ad alta intensità e su un super colpaccio sia a 36 anni comunque la moneta abbastanza avanzata e infatti alla fiorentina farà due anni di contratto firmerà due anni con di contratto per 4 milioni di euro a stagione più bonus e rispetto a quando al bair monaco ne prendeva 8 ha dovuto ovviamente dimezzarsi l'ingaggio per andare alla fiorentina perché ovviamente la fiorentina non poteva mai permettersi 8 milioni di euro a stagione liberi sta a fine carriera e quindi accettato questa sfida italiana di andare alla fiorentina provare questa esperienza italiana che ovviamente non è mai stato in italia e un super colpaccio da parte della fiorentina che comunque è un giocatore di esperienza ancora molto forte e può ancora giocare ad alti livelli per uno o due anni facciamo due anni anche quindi super colpaccio da parte della fiorentina che liberi è diciamo centrocampista attaccante può fare entrambi i ruoli giocare a centrocampo in attacco quindi sarà un ottimo giocatore per montella dell'allenatore della fiorentina super colpaccio si è vero grande d'età a fine carriera e comunque ovviamente non è lo stesso forte di quando avevi vent'anni perché quando hai vent'anni hai una forza quando ne hai 36 ecco diciamo un'altra però comunque rimane un super colpaccio un colpaccio rimane dalla parte della fiorentina perché comunque un giocatore ancora forte che può giocare due anni bene ancora e comunque un super colpaccio perché comunque ha sempre comunque grandi doti tecniche nonostante l'età quindi super colpaccio da parte di comissio il presidente ormai della fiorentina dopo che della valle se n'è andato e direi finalmente perché della valle ormai quando stava la fiorentina non ha fatto più nulla oltre la fiorentina non daremmo anche in cermi sono fatti né acquisti né diciamo che cose in la valle quindi è stato giusto così che comissio ci è andata la fiorentina detto questo ragazzi ha stato un super colpaccio la fiorentina quindi complimenti a loro io ho sempre adorato liberi l'ho sempre trovato fortissimo quando stava al bairn al bairn monaco ho sempre detto magari in napoli un giorno lo compratte mai l'ha comprata perché vendeva un ingaggio troppo alto e anche il cartellino era troppo adesso invece la fiorentina se l'è potuto permettere perché comunque ha 36 anni e sta a fine carriera 8 milioni di euro a stagione al bairn 4 alla fiorentina super colpaccio da parte della fiorentina complimenti ovviamente non basta perché comunque la fiorentina secondo me doveva ancora fare il più sul mercato doveva fare tipo qualche acquisto in più la fiorentina secondo me doveva fare forse un attaccante forte è andato boatenga anche boatenga in grande colpo da parte della fiorentina però secondo me doveva comprare un altro attaccante forte e un centrocampista ancora migliore con chiese eccetera secondo me una la fiorentina poteva fare questo comprare un centrocampista ma attaccante forte oltre a liberi solo liberi non basta secondo me la fiorentina se finisce così il calcio mercato secondo me non va ne manco in europa league un mio personale per il parere vedremo fatemi sapere sotto nei commenti ragazzi che cosa ne pensate di liberi alle fiorentina clamorosamente mettete un bel like un bel mi piace se vi è piaciuto questo video ragazzi ci vediamo al prossimo video sempre forza napoli forza angelo e che dire col pazzo da parte della fiorentina anche sì ma diciamo che la fiorentina tutti gli ex che giocano nei bair monaco stanno finendo la carriera vanno tutti quanti alla fiorentina successe anche con gomez che è passato da bair monaco a fine carriera a fiorentina però c'è da dire fu un pacco perché gomez alla fiorentina a fine carriera dopo che è andato al bair monaco fece malissimo alla fiorentina quindi secondo me farà secondo me liberi è diversa la cosa è che liberi è sempre forte nonostante l'età e si è visto anche a bair monaco l'anno scorso comunque non male però gomez quando ha finito la carriera e andò alla fiorentina non fece bene alla fiorentina anche lui andò grande d'età come attaccante come si faceva male alla fiorentina speriamo che per la fiorentina invece liberi sia diversa anche se liberi secondo me è ancora molto forte col pazzo da parte della fiorentina ciao a tutti ragazzi ci vediamo al prossimo video da l'età non vediamo se non c'è attraverso